Un incidente per ricominciare a vivere Stavo correndo, stavo scappando da casa, dai miei genitori, che mi urlavano contro, quando di colpo mi trovai per terra, sull'asfalto. Ci misi un attimo a capire cosa stesse succedendo, ma quando sentii una portiera chiudersi e poco dopo un uomo che mi chiedeva come stessi, capii che scappando ero finito sotto le ruote di una macchina. Poi svenni. Mi risvegliai in ospedale. Pensavo di trovare i miei genitori accanto al mio letto, ma non c'era nessuno, al di fuori di un ragazzo sconosciuto. La consapevolezza che i miei genitori non si stessero preoccupando per me, che non fossero venuti a sapere come stava loro figlio, mi faceva più male che l'impatto che ho avuto con l'auto. Ma c'era questo ragazzo, che aspettava il mio risveglio. Non avevo voglia di parlare, troppi pensieri affollavano la mia mente, ma mi sforzai di chiedergli chi fosse, perché era lì. Mi rispose di chiamarsi Federico, di essere stato lui a investirmi. Io lo interrumpi e gli dissi che da quello che mi ricordavo stavo correndo e mi sono lanciato in mezzo alla strada. Fu lui a interrompermi nuovamente, chiedendomi se per caso avrei voluto suicidarmi. Non volevo suicidarmi, anche se ora come ora avrei anche potuto farlo, ma non avrei mai il coraggio. Cos'è cambiato? Da come correvi? Da come ti sei lanciato in mezzo alla strada? Tutto fa pensare che tu stessi scappando da qualcosa. Cos'è cambiato? Tu per caso vedi qualcuno qui, oltre a te? Immagino che tu sia stato qui tutto il tempo da quando è successo l'incidente e non penso che oltre a medici e infermieri abbia visto passare qualcuno che era preoccupato per me. Eppure sono convinto che i medici, i miei familiari, li abbiano chiamati e la prassi. Posso solo confermare le tue certezze. Nessuno è passato. Ma cosa hai fatto di così terribile per essere disdegnato dai tuoi genitori in questo modo? Di così terribile nulla, a mio parere. Ma loro sono di vecchio stampo e se io non amo come la tradizione vuole, non mi riconoscono. Chiusi gli occhi. Quest'ultima frase mi fece venire un nodo alla gola. Le parole faticavano a uscire. Mi tornò alla mente quella sera in cui durante la cena decisi di uscire allo scoperto. Evi bisogno di molto coraggio e di prendere una boccata d'aria molto profonda. Poi mi rivolsi ai miei genitori ed un fiato gli dissi quelle quattro parole che furono come di ghiaccio. Mi piacciono gli uomini. Poi silenzio. Vidi mia mamma sbiancare. Mio padre bloccarsi e mia sorella, l'unica della famiglia con la quale mi ero confidato e che non ha cambiato idea su di me, che avrebbe voluto non essere presente perché consapevole di quello che sarebbe potuto accadere in famiglia. Per una settimana i miei genitori non mi parlarono. Non mi prendevano neanche in considerazione. Ma forse avrei preferito che continuassero a non parlarmi. Perché quando ricominciarono a farlo fu per dirmi che ero un pervertito e che loro non si sarebbero meritati un figlio così. Una sciagura per la famiglia. Una disgrazia. Davide. Federico mi riportò al presente. Mi sentivo la guancia bagnata e spalancai gli occhi. Lui non fece domande. Mi diede un fazzoletto e mi asciugai gli occhi. Se vuoi che ti lasci un po' solo non ci sono problemi. Se ti lascio il mio numero, in qualsiasi caso, puoi chiamarmi. E solo se ti fa piacere la mia compagnia. È bello sapere che qualcuno, anche se non ti conosce, è così disponibile. Chiusa la porta della mia stanza e misi il suo numero nel cassetto del comodino. Ero di nuovo solo, con i miei pensieri. Chiamai l'infermiera, chiesi se potevo fare una telefonata poiché il mio telefono andò perso nell'impatto. Composi il numero di casa. Rispose mia madre, che riattaccò dopo aver sentito la mia voce. Richiamai, sperando che rispondesse mia sorella, ma si ripetè la stessa scena più e più volte. Le cose andarono avanti così per qualche settimana, fino alla sera dell'incidente. Quella sera decisi io di aprire il discorso. Non avevo mai risposto agli insulti e alle provocazioni, ma quella sera non potevo più farne a meno. Ero arrivato al culmine. Chiesi a mia madre perché lei è attratta dagli uomini. E mi rispose che la natura l'ha deciso e che era giusto che fosse così. Io risposi che mi avevano sempre insegnato che prima di amare con il cervello bisogna amare con il cuore, che non si scelgono le persone per l'aspetto fisico. Quello poi cambia, ma bisogna innamorarsi del carattere, del cuore di una persona. E le rifici la domanda, ma esigendo una risposta più personale. Mi disse che non c'era risposta. Le piacciono gli uomini perché così ha deciso la natura. Aggiunse che non merito di essere chiamato figlio perché sono contro le leggi della natura. A questo punto mio padre iniziò a dire che mia madre aveva ragione. Non ero degno di essere loro figlio. Mia sorella mi prese per la manica della giacca mentre correvo via di casa, cercando di fermarmi. Mi scusai con lei e mi chiusi la porta alle spalle. Stetti un attimo lì fuori. E sentì mio padre dire a mia sorella di togliersi la giacca, che non le avrebbe permesso di venire a cercarmi e di vedermi. Le gambe iniziarono a muoversi da sole. Iniziai a correre senza neanche accorgermene. In un attimo mi ritrovai nella buia sera di novembre. La strada sembrava sconfinata. È l'unica via di fuga. Ma quell'auto fu la mia salvezza. Presi dal comodino il biglietto. Un numero e un nome. Lo feci girare a lungo tra le mani. Mi decisi. Chiamai l'infermiera, la quale gentilmente mi riportò il telefono. Composi il numero e al terzo squillo rispose Federico con una voce dura. Non me la ricordavo così. Ma come mi presentai la voce cambiò. Mi disse che sarebbe passato dopo il lavoro. Riattaccai il telefono. Provai a comporre il numero di casa. Questa volta rispose mia sorella. Davide, come stai? Dove sei? Ho sentito dire da papà che ti è successo qualcosa per cui sei in ospedale, ma non mi sono state date spiegazioni. Sì, sono stato investito. Sono ricoverato, ma tutto sommato sto bene. Avevo voglia di sentirti, sorellina. Anche io ero preoccupata per te. Sta tornando papà. Devo riattaccare prima che mi senta parlare con te. Ciao fratellone. Passo appena posso. Finché non fui dimesso, mia sorella veniva a trovarmi tutti i giorni, di nascosto dai miei genitori. Appena usciva da scuola. Federico passava dopo il lavoro e rimanevamo a chiacchierare fino a sera. Si stava dimostrando una persona molto disponibile e affidabile. Data la mia situazione, Federico mi fece una proposta. Tra qualche giorno ti dimetteranno. E siccome tu non puoi tornare a casa tua per via dei tuoi genitori, e dato che anche se ti dimettono non sarei ancora al massimo della forma per stare da solo, non si sa dove, stavo pensando se non ti andasse di stare da me. Mi lasciò senza parole. Non mi aspettavo che questo legame potesse diventare così profondo. Tanto da dirmi di stare insieme a lui. Ma d'altronde aveva ragione. Dove sarei andato? Come potevo stare da solo tutto il giorno? Sono un po' imbarazzato, ma accetto volentieri la tua proposta. Mi farebbe molto piacere. Sono contento che ti vada a genio questa proposta. Anche se lavoro potremmo passare molto più tempo insieme e questa cosa non mi dispiace ha fatto. Sì, ma io avrei bisogno della mia roba, di qualche vestito almeno. Secondo me tua sorella sarebbe felice di aiutarci. Il giorno in cui mi dimisero, oltre a Federico c'era mia sorella, che mi aspettava insieme con lui. In mano aveva un borsone. La salutai e mi disse che era felice di vedermi di nuovo in piedi e con due occhi felici. Mi abbracciò. Questa è parte della tua roba. Il resto te la porterò man mano che verrò a trovarvi. State bene insieme. E per questo non devi pensare a mamma e papà. A cosa pensano di te. Sì fiero di te stesso. Non farti bloccare dai pregiudizi. E vivi la tua vita esattamente come tutti gli altri. Federico salutò mia sorella e la ringraziò. Mi prese per mano, intrecciando le dita con le mie, e mi disse, andiamo. Le mura di casa vogliono conoscerti. Grazie.